ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale wrestling continuiamo con il replicant bene nell'episodio precedente non abbiamo fatto praticamente niente se non la missione di andare diciamo in una nuova zona in un porto marittima in cui dobbiamo pescare un pesce il pesce sciamano che per niente serviva per comporre una nuova medicina per nostra sorella che apparentemente l'ha fatta guarire quindi adesso sta meglio e ci siamo fermati qui e dovevamo poi indagare su nuovamente diciamo il nido dove erano andati un qualche puntata fa per vedere appunto come stanno messi lì quindi continuiamo subito senza perdere altro tempo buona visione eccoci ci ci allora questa qua non c'è più davora quindi chissà dove sarà andata noi abbiamo andato però dall'altra parte giusto no non è giusto sì dobbiamo andare da questo qua Grazie a tutti. 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 Attacchi laterali. Montone. Questa è piccolino. Questa è una capra. Carne di capra. Buona. Dovrei essere arrivato. In quel posto in quel posto che lui mi dice. Ehi. Passo. Passo. laterale. Bisogna. Bisogna. Moruto. fantastico. 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 Allora. Allora. Coda di topo. Coda di topo. Allora. Allora. si va. Si va. da qualche parte. e allora. E allora. Cosa. guarda che non cosa signori. no. No. guarda che non cosa signori. guarda che non cosa signori. guarda che non cosa signori. ecco qua. Eh. bene. Jacob. I'm hungry. Ok. I know. Hold on. Il pane secco. Buono il pane secco. Hey there. Oh. Welcome. Please come in. What is this place? It's my shop. I'm the finest smith in these parts. Uh. See. My brother and I build items from scrap we find in the junk heap. But we're a little low on supplies at the moment. The junk heap you say? That's right. Oxate used to be a military base. I don't know about that but there's lots of great stuff in there. It's not exactly the safest place in the world but we gotta eat you know? So it's just the two of you out here? Our father died when Gideon was very young. And mom is... She's out right now. Getting supplies. But I'm sure she'll be... Mom's been gone for seven days. When is she coming back? Seven days? That's a long time. It's getting harder to find good scrap. She probably had to go deeper into the heap. I said I'm hungry! So if you had the materials would you be able to upgrade our weapons? Well yeah but it's really dangerous in there right now so we... I'll need three titanium. I'll need three titanium. 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 Mmm. Got it. Here's a map of the complex. Thank you. And be careful please. It's gotten really scary in there. Bene. Abbiamo trovato la mappa della zona. Well done signori, well done. Bene. Let's go. Oh. Quanto è grosso sto posto? Beh, insomma, non è proprio piccolo piccolo in effettino eh. Beh, beh, beh. Oh. Looks like the ancient machinery is still working. Not that we have any idea how it works. Ruins from ancient times. Patrol for eons by unstoppable machine. Mmhmm. Yeah. And I bet they're full of rare materials. Oh oh oh. Yo go yo. My friend, sei cattivo? Si, si, è molto cattivo. Ah, una è rossa l'altra è verde. Quindi vuol dire che la poteva andare. Mmm, perché c'è sto coso? Perché posso saltare la sopra. Allora, quella è una porta fino a se stessa, quindi possiamo andare. Bella musichetta, signori. Pure qua dentro. Oh. Ah, c'è un ascensore. Bene, non sembra funzionare. Quindi. Dobbiamo andare ad attivare l'ascensore. Oh, che sta facendo? Vai. E' impazzito. E' impazzito. E' impazzito. E' impazzito. Si è impallato. Primo combattimento, dai. Oh. Aia. Oh, ma ce ne sta un altro. Eh, altri dieci. Oggetti rari. Sì, ancora. Per vedere questa mappa. Allora, lì arriva alla fine. Quindi, andiamo. Ah, un altro ascensore. Ok, nemmeno questo. Bellissima musica, ragazzi. Sì. Opposito. Oh, ho. E' un altro. Oh, ho. Oh, è un altro. E' un altro. Oh, è un altro. Chudano. E sicuramente la madre ha un altro di quelle loro da fare l'amore. Aia Tiè Antenna rotta Antenna rotta Piastra medallica Allora Giriamo a destra A sinistra prima E andiamo di qua Che tanto è Porca valetta Aia Ok La porta non si apre E questo l'avevamo capito Hmm Mugulo centrale Basta Tutto qua Ok Siamo sicuri Sì 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 Dici Non credo Porca Ok Dai Amicare E vabbè E vabbè Amo finito? No Non amo finito Questo è grosso Questo è forte No No Non è vero Non è forte Tutto una stupidaggine Lega di danio Hai capito Hai Fammi Bide qua Qua Porca Forse è pure più facile Combattere così Bide qua Oh! Ahia! dai esù oh due eccola qua bene quindi ora vado di qua che è l'ultimo posto che non ho visto ancora vai pietra mistica mazza quanta roba urca urca no che sono morto no eh non fanno stupidaggi di qua ok Ah, quello non è andato. Chi è? Allora, me ne vado. Hai pensato che potessi solo riportare il cliente dopo averne il loro strumento? Cosa? Sì, è un tipo di magia che potessi spettare in un momento in attenzione. Ah, quello. Beh, potessi lasciare un pochettino come voi, tu, ragazzi. Cosa? Perché tutti i saggi che hanno provato il loro strumento, si trattavano al minceme, quando si trattavano il loro strumento. Uh, wow. Allora, andiamo. ecco quindi non avremo un teletasporto in questo gioco bellissima musica ribadisco ancora una volta veramente bella azzeccata durante i combattimenti dai va, vediamo come c'è potenza l'armia, l'armia, questo io odio essere solo, io voglio andare a trovare mamma oh, ciao ancora abbiamo i tuoi materiali oh, molto grazie avrò il giro di lavorare sulla tua propria normalmente ti prendo qualcosa, ma tu puoi avere questo per libero eh, non lo so mi sono fatto il cosiddetto kill per portare queste pezzi di titanite qua non lo so, io puh arma potenziata forgiare le armi, per potenziare le tue armi porta i materiali necessari all'armeria dei tuoi fratelli che si trova al cumulo di Ciarpame e paga la commissione richiesta ok voglio trovare mamma c'è tutto ok? scelto è impazionato per la mamma wraccare e crede che dovremmo andare a guardare ci dobbiamo aspettare ci dobbiamo aspettare, ok? ci dobbiamo tornare in breve oh, voglio aspettare voglio trovare mamma ah, buco sì, sì, lo so stai cercando per la mia mamma non lo so non lo so per favore no, non lo so ti ho già dato molto più di quanto potrei riprendere ah, non ti preoccuparti non lo so non lo so la mia mamma... non lo so non lo so la mamma normalmente va troppo profondo nella monta ti dovrai usare l'elevator quindi potrei dare l'attivazione mmm ho chiamato il codice per attivare la scianzore ok è stato un piacere oh, aspetta un attimo voglio vedere che cosa mi può offrire costui mamma normalmente prende l'elevator oh bisogna qualche lavoro di fatto sul tuo uomo? sì, acquista ben gli oggetti fammi vedere no, no, no vieni scusate mi è partito mamma normalmente... oh bisogna qualche lavoro di fatto sul tuo uomo? argento grezzo rame grezzo ferro grezzo piastra metallica bullone spanato lente rotta mei, guarda quanto costa tutta sta roba e chi ce l'ha? che posto vende? niente pozzini della guarigione mille interessante sì e invece per potenziare che dici? oh bisogna qualche lavoro di fatto sul tuo uomo? forgia la lama senza nome 152 beh quella che costa di più? cioè quella che è più forte? ah perché livello 2 lega di titano 3 necessarie wow guarda la roba che serve lega di titano bullone spanato braccio rotto ce l'ho mi serve bullone spanato e lega di titanio bene lo farò come un po' ma non adesso andiamo a salvare la mamma va? ah è sempre qua dentro quindi oh 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 io coio coda di ratto poi quindi doniamo lo stesso posto che prima però adesso andiamo a nascenza ora ha detto che la mamma sarebbe in qualcosa di potere nella monta vero? spesso posso chiedere cosa hai capito per ti perdere i affari di questi tanti? Yonah e io adiamos sappiamo come si sente per dichiarare la mamma Ok quindi ci stanno tolto tutti i mostrilli L'ascensore stava qua se non mi ha derrato Sì Ok Destinazione S1 Non ce ne sono altre Vai Ah interessante Aia Oh vai Questi mi danno Ah non mi ha dato Balordo Non mi ha dato qualcosa di grezzo Oh Oh Ma quanti so Porca Combo più caricamento magia Fammi la nà Prima che esplode ma coppa Questa è chiusa giusto Sì Ma lì c'è qualcosa No Oh Sì Barriere frantumabili Alcuni ostacoli possono essere distrutti con gli esplosivi Wow Raccogli Lancia No, lascia B Lancia, ok E dove stanno gli esplosivi? Ah Ok Oh 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 Carrelli da miniera Usa L per modificare la direzione dei tuoi attacchi magici mentre sei su un carrello da miniera R, sì ho detto L Puoi anche accelerare sporgendoti in avanti o rallentare sporgendoti indietro Hmm E come sparo? Io, io Fantastico Io, io Stavamo corri, oh Beh, penso di averli uccisi Cioè, insomma, deve essere arrivata a destinazione No, non penso Giusto Dai, su Stavamo cieca la testa Aia Ha dato una pigna, mi ha dato Fammi curare, va Oh, oh, oh Andiamo Oh, è qui il casco, giù? Uh, no Come faccio? Urca Non so nemmeno come ho fatto Si scende ancora più Perchè prevedo che ci sarà uno scontro con un boss? Ho solo questa vaga sensation Così Così Cosa me lo fa pensare? Intruder dettagli Una autorexistica Unimitata 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 Eccala Su E che re? Una super macchina Una super macchina Una super macchina signori Che famo? Oddio Uh Ecco Ecco Sì Sì La vedo brutta Sì Vabbè Sì 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 Ecco Un'altra Sì 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 No No Eh vabbè sì Ciao Sì 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 Ho capito Ho capito Non ho capito Sì Ma dove le dini Porr Sì C'è sto una settimana qua Sì 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 Fiamo così E famo prima Molto prima Vai a quel paese following Sì Sto una settimana qua Sì Non mi farò praticamente niente Oh, si è arrabbiato? Eh, vabbè Eh, vabbè Fiamo così Che fiamo prima? Pare vero Dai, dai, su! Dai, vabbè Ti amo, dai, vabbè Grazie a tutti. Ma che ho beccato? Niente ho beccato. Che pipa al sugo. Però mo' è morto. Sicuro. Andiamo, su? Sì. Te sta bene. Su. Mi sa che la mamma... Della mamma non c'è traccia, comunque. Non to' vorrei di... Hai ottenuto un verso sigillato. Verocità oscura. No, voracità oscura. Assorbi gli attacchi magici dei nemici. Carica l'attacco per prolungare la durata dell'assorbimento. Interessante. Ah, scusa mo'. Allora... Associa parola. Incantesimi. Esplosione oscura. Mano oscura. Voracità oscura. Ok. Però come faccio a switcharli? Ancora non l'ho capito, sinceramente. Mano oscura. Ok, tutti gli incantesimi. Ok. Esplosione oscura. Nessun effetto. Però certo, almeno vedevo devono di... Vabbè. Social. Vuoi associare questa parola a tutte le magie? Eh? Oddio. Ok. Ah, ok. Interessante. Non mi ho capito, io sa. Ragazzi. Lug. Associa torna l'elenco. Seleziona. Conferma. Associa tutta... Associa tutta l'elenco. Devo capire il tutorial del... Perché non ci ho capito un cacchio. Lama senza... Spada senza... Ok, c'ho queste... E l'abbiamo capito. Queste so. Queste so. Ok. No. Mannaccia. Ecco qua la mamma. Ma perché pure questa è mudanda? C'è un'amica. Abbiamo scoperto la verità migliore possibile, cosa direi ai bambini? Non lo so Che devo dire? Che è questo? Una bottiglia di perfume? Si tratta di rose Penso che dovremmo portare questo a loro Ok Quindi ci porti fuori dal dungeon? Si Ora la mamma è in cielo, non si è riuscita a trovarla Ora la mamma è in cielo Cosa è... Cosa è in cielo Cosa? È vero La tua mamma è riuscita questo mondo Liare! Non credo in te! Si tratta di solo? Non Non è bene Svevo tutto ciò che mi ha detto Mi ha detto Si tratta di solo con quello che amava? Non è bene Non è bene Non è bene Non è bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stato divertente, mi è piaciuto, devo essere sincero, mi sta soddisfando questo Nier Replicant. Bene, vediamo cosa succederà nella prossima puntata. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Restring. Ciao e alla prossima!